L'oggetto più importante che chiediamo ai cittadini di conferire è legato al mondo dell'infanzia, quindi un passeggino, un seggiolone, una carrozzina, un giocattolo. C'è molto bisogno di questi beni, sono beni costosi che vengono utilizzati poi solo per pochi mesi o per pochi anni e quindi può essere utile per un altro cittadino venire a ritirare questo bene senza il pagamento di alcun prezzo. La cooperativa Gulliver è una cooperativa di inserimento lavorativo, quindi i servizi che noi svolgiamo sono finalizzati a inserire nel mondo del lavoro delle persone con disabilità o con svantaggio di diversa tipologia. Noi cerchiamo di svolgere servizi che permettano nel nostro piccolo di rispettare l'ambiente, di ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti e quindi l'inquinamento. Grazie. 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 Grazie.